Ben trovati e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo dell'aggressione a Daisy e Osakwe, nessuna matrice razziale ma solo lesioni. Questa è l'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Torino che coordina le indagini per fare piena luce sul lancio di uova da parte per il momento di ignoti che l'altra sera hanno colpito d'un occhio, offrendola la prima attista italiana Under-23 di lancio del disco Daisy e Osakwe. L'inchiesta è coordinata dal PM Patrizia Caputo che ha escluso motivi di razzismo così come avevano subito ipotizzato i carabinieri del comando di Torino. Di parere contrario l'atleta che ieri all'uscita dalla clinica oftalmica della città aveva dichiarato che chi gli ha lanciato addosso le uova lo ha fatto solo perché è una persona di colore. Sull'episodio intanto continuano le dichiarazioni soprattutto sui social dei vari leader politici. Oggi il vice premier Luigi Di Maio ha dichiarato che spera in una rapida soluzione del caso e che gli autori vengano presto messi in galera. Ancora più pungente il pensiero di Beppe Grillo che su Facebook ha scritto l'indignazione di un uovo in faccia, c'è quanto basta per restare paralizzati mediaticamente, l'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista oppure il caso. Quello che fanno i media, continuo e posto, è portare la nazione verso il baratro non avendo mai visto con i miei occhi un così forte condizionamento prima d'ora. E adesso cambiamo argomento, anche le questioni della TAV e dell'ILVA finiscono nel calderone della manovra finanziaria ad autunno dove si prevede una stangata di 22 miliardi di spese inevitabili. Ma sentiamo da che tipo c'è. Alla fine è tutta una questione di conti da far quadrare per tentare di evitare che a ottobre la manovra finanziaria cosparga rasoiate ad estra manca con 22 miliardi di spese inevitabili. Se da una parte Salvini invoca come priorità reddito di cittadinanza la flat tax e l'abolizione della legge Fornero, dall'altra il ministro Treia dovrà tentare l'impresa di riuscire a stare nel mezzo accontentando un po' tutti, ma soprattutto evitando di caricare il conto sull'indebitamento netto, che potrebbe arrivare a quota 2% rispetto allo 0,8% programmato. Sul tavolo delle trattative non ci sono solo questioni fiscali e finanziarie, ma anche argomenti che in queste ultime settimane stanno tenendo banco, tra queste la TAV e l'ILVA. Blocare la TAV, così come auspicato dal Movimento 5 Stelle, secondo i calcoli per difetto del commissario di governo, ci costerebbe qualcosa come 2 miliardi di euro. E se Di Maio, accogliendo la proposta del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, è favorevole a un referendum popolare sull'argomento, le forze economiche piemontesi insorgono unanimi nel ribadire che fermare i lavori della Torino-Lione è un atto irresponsabile, irrituale e illegittimo. Industriali e costruttori ed ili hanno convocato una conferenza stampa per chiedere a viva voce che i lavori vadano avanti. Siamo preoccupati, Torino potrebbe diventare un binario morto, hanno ribadito. Fermare l'opera significerebbe condannare il Piemonte al tutto gomma e tenersi una ferrovia vecchia di 150 anni. Diametralmente opposto al pensiero di Di Maio, secondo il quale il progetto della Torino-Lione, studiato ormai 30 anni fa, non tiene conto delle tecnologie che nel frattempo sono state sviluppate. Altro nodo all'attenzione dell'esecutivo, la questione ILVA, dove le scintille sono più verbali che non riferibili all'acciaio prodotto. A Roma, il vertice convocato dal ministro dello sviluppo economico e del lavoro e al quale ha disertato il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, si è chiuso con un nulla di fatto, ma con la rabbia delle parti in causa, non ultima quella del primo cittadino di Novi Liguere, Rocchino Muliere, che al rientro dalla trasferta laziale ha commentato, tra le prime dichiarazioni del ministro Di Maio, leggo che il governo non ha intenzione di dare all'acciaieria il primo che passa. Ritengo sia un'affermazione un po' avventata, visto che la procedura di vendita risale a più di un anno fa e che Arcelor Mittal è il più grande produttore al mondo di acciaio. Ieri sera c'è stato il Consiglio Comunale ad Alessandria e si è parlato di bilancio e si è rischia di sforare il patto di stabilità ancora una volta per quanto riguarda l'economia del Comune di Alessandria, ma stavolta perché si è troppo efficienti. Allora tutti insieme i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, hanno chiesto di cambiare le leggi che regolamentano appunto questa vicenda del patto di stabilità. Ma noi abbiamo sentito l'assessore al bilancio, Cinzia Lumiera, lo abbiamo sentito all'interno di questo servizio. La città di Alessandria non vuole più rivivere l'esperienza di un nuovo dissesto derivante dal mancato rispetto del patto di stabilità. E infatti stavolta i consiglieri comunali di tutti i partiti hanno votato insieme durante l'ultimo Consiglio Comunale di luglio, prima delle vacanze, a favore di una richiesta di modifica della legge che regolamenta il patto di stabilità che adesso è chiamato equilibrio di finanza pubblica. Il rischio è causato dalla volontà degli amministratori di pagare i debiti comunali. Sembra incredibile, ma aver messo da parte quasi 19 milioni di euro per saldare i debiti del Cissaca, finanziare Valorial e ripagare la fideiussione sottoscritta con la banca anni fa, può rischiare di far saltare i conti del Comune. In Consiglio Comunale c'è stato alla fine un ordine del giorno firmato da tutti i consiglieri per chiedere ai parlamentari della provincia di impegnarsi per modificare la legge del dicembre 2016 e a raccontarci i maggiori particolari all'assessore al bilancio del Comune di Alessandria Cinzia Lumiera. Abbiamo notato una situazione diciamo paradossale perché nel nostro caso abbiamo onorato debiti pregressi alla situazione Osler, quindi impegni presi giuridici precedenti al 31-12-2011 e abbiamo applicato quote di avanzo accantonato negli esercizi precedenti destinato veramente a onorare in via definitiva i debiti del lente riconosciuti in sede di procedura di rispetto finanziare. Paradossalmente noi siamo un Comune virtuoso, abbiamo accantonato a fondo quindi praticamente le cifre per poter pagare, abbiamo pagato e nonostante tutto ci ritroviamo praticamente con questa situazione. Quindi noi che cosa chiediamo? Siccome in questo momento ripeto è un monitoraggio, non abbiamo violato un bel niente al momento, stiamo monitorando e lavoreremo da oggi in poi affinché questo non succeda. Ieri sera in Consiglio Comunale credo sia avvenuto un fatto storico perché all'unanimità è stato chiesto di chiedere praticamente ai nostri rappresentanti Alessandrini in Parlamento una modifica della norma. Dicegniamo che ci siano gli elementi perché la base è questa, ci sono gli elementi per cui ci sembra che da Roma si possa avere una modifica normativa perché ci sono sentenze della Corte Costituzionale che già hanno portato in questo senso. Adesso nell'ordine del giorno abbiamo inserito tutti i visti gli articoli, richiamate le norme eccetera. Senta, l'ultima domanda, in caso di sforamento del patto di stabilità cosa succederebbe? Eh capito, si blocca la macchina comunale, non si possono più chiedere mutui, non si può più assumere personale, cioè non dobbiamo andare verso questa direzione assolutamente, anche perché ripeto, fossimo andati in questa direzione perché abbiamo speso di più, no, abbiamo onorato i nostri debiti e quindi non è assolutamente corretto per un comune in dissesto, comunque in posto dissesto come nel nostro caso. Adesso parliamo invece del caffè Marini ad Alessandria che in questo momento è chiuso, quello che è sempre stato insomma l'elegante caffè del teatro comunale adesso ha perso il suo appeal, non ha nessun pretendente, ieri si è chiuso il secondo bando per assegnarlo in affitto ma anche stavolta è andato deserto. Aspal, la società di proprietà del comune che è proprietaria dell'immobile probabilmente dovrà assegnarlo non più con un bando ma con una trattativa privata. Il costo dell'affitto che nel primo bando era stato stabilito in 2.000 euro mensili in questa seconda tornata era stato ribassato a 1.500 euro al mese con un contratto passato da 6 anni a 9 anni, oltre naturalmente ai 60.000 euro di base per rimetterlo a posto. Certo una spinta per rilanciare l'attività e quindi renderlo maggiormente appetibile potrebbe essere legata ad un'attività più intensa della sala Ferrero del teatro comunale che è agibile ma che non viene usata molto. Della sala grande naturalmente del teatro comunale non è il caso di parlarne perché per riaprirla ci vanno oltre 2 milioni di euro e per il momento non sembra proprio ci sia l'interesse da parte di nessuno a riaprire quello che per molti anni è stato il luogo della cultura alessandrina. Adesso ci spostiamo a Tortona, la città si candida a diventare punto di riferimento della sanità alessandrina. È stata infatti presentata in commissione la proposta tecnica del progetto preliminare che individua in zona strada Cabannoni la realizzazione del polo ospedaliero di cui si parla da anni. Sentiamo da Alessandro Dallacati. L'amministrazione comunale di Tortona si dichiara pronta ad accogliere se l'orientamento della regione Piemonte venisse confermato in quella direzione il nuovo ospedale unico di cui si parla da tempo. Un'opportunità per il territorio che superi i localismi e che accolga in un un struttura tutte le specialità e garantisca un'assistenza di eccellenza. L'area individuata per il potenziale nuovo polo ospedaliero è quella di strada Cabannoni. In commissione urbanistica è stata presentata la bozza del progetto preliminare della variante al piano regolatore tortonese 240.000 i metri quadrati di terreno che diventeranno area a servizi. In questo modo ci si troverebbe dotati di un luogo già destinato e servito dal punto di vista infrastrutturale e viabilistico. In bozza infatti fra le altre previsioni figura pure un percorso stradale utile al possibile futuro ospedale naturale prosecuzione della tangenziale nord che collegherebbe la rotatoria posta all'intersezione di strada comunale Gerola con la strada statale per Alessandria in frazione Torre Garofoli e la futura rotatoria formata dalla strada comunale Cabannoni e la provinciale 211 approvata dall'amministrazione provinciale alessandrina e in fase di realizzazione così da rendere pienamente operativa la tangenziale nord in direzione Voghera. Se attuata sarebbe facile garantire il raggiungimento del casello autostradale e della stessa tangenziale nord e, dicono dagli uffici dell'ex caserba Passalacqua, verrebbe assorbito il traffico proveniente dalla statale per Alessandria e diretto verso nord. Intanto la bozza di proposta tecnica del progetto preliminare alla variante generale al piano regolatore comunale si scontra già in città con i primi commenti di chi, passando davanti all'ospedale Santi Antonio e Margherita, si chiede quale sarà il futuro dell'attuale nosocomio cittadino. Piero Angela è il torinese dell'anno 2017. La sua nomina è stata decisa dalla giunta della Camera di Commercio che ogni anno premia chi torinese di nascita ha dato uno speciale contributo nel proprio settore di attività. Nella motivazione del riconoscimento a Piero Angela si legge che ha rappresentato lo stile torinese dell'impegno e della passione per il lavoro, coltivando in generazioni di italiani e non solo l'interesse per la ricerca e per le scoperte dell'uomo attraverso un linguaggio curato ma comprensibile e soluzioni innovative di comunicazione che hanno rivoluzionato il mondo della divulgazione scientifica. Adesso andiamo a Volpedo. I volpedesi hanno reso omaggio al loro più illustre concittadino nel giorno del 150esimo anniversario della sua nascita. Stiamo parlando di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Quello che vedrete tra poco nelle immagini è lo spettacolo itinerante caro amico pittore, un'anteprima di ciò che sarà possibile rivivere il prossimo 2 settembre. Ma sentiamo di più da Alessandro Dallacar. Carissimi genitori, vi penso molto, così come penso a Teresa. Sono venuto in posta oggi per vedere se c'era qualcosa di... È un riecheggiare nell'aria di frasi, di ricordi, di sogni e di speranza, quello che è passato di bocca in bocca e di cortile in cortile lo scorso 28 luglio a Volpedo. Siamo nel 1868. In quel giorno nasceva Giuseppe Pellizza, il pittore del quarto Stato, colui che creò una congiunzione tra divisionismo italiano e coscienza sociale e che, attraverso le sue opere, rappresentò la situazione del movimento operaio o del processo di urbanizzazione o ancora tratteggiò la realtà del mondo contadino. Innamorato della sua Volpedo, delle sue campagne e della gente che abitava questo borgo della Valcurone, il giovane Giuseppe sentiva però forte l'esigenza di immergersi nel mondo dell'arte e per farlo doveva lasciare quel paese per andare a studiare all'Accademia di Belle Arti di Brera. Quel paese e la sua gente, oggi come fosse ieri, vissero il percorso dell'uomo e dell'artista che di ritorno a Volpedo sposò nel 1892 Teresa Bidone. Da quel momento iniziò ad aggiungere da Volpedo nella firma alle sue opere. La coppia ebbe due figlie, Maria e Nerina, quest'ultima ha avuto un solo figlio, mentre Maria ne ha avuti cinque. Il più grande di loro è il professor Giuseppe Pippo Bruni, per anni insegnante di storia e filosofia al liceo di Tortona. Alessandra è la sua figlia più grande ed è quindi pronipote del Pellizza. Ha recitato insieme ad altri volpedesi, tra i quali discendenti Bidone e la famiglia della moglie del pittore, in una delle scene di Cara Miss Bittour, caro amico pittore, anteprima dello spettacolo itinerante che verrà proposto il 2 settembre a Volpedo, nell'ambito di un ricco cartellone di festeggiamenti organizzato dall'Associazione Pellizza da Volpedo e dall'amministrazione comunale. Un grande affresco vivente, sotto la regia di Emanuele Arrigazzi e dell'aiuto regista Fabio Martinello. L'idea è partita da un fascicolo che il professor Ettore Cau, presidente fondatore dell'Associazione, aveva trovato fra le carte pelliziane. Conteneva poesie, rime e soprattutto musiche dell'epoca, composte per i festeggiamenti, suonate nel cosiddetto circolo bidone. Un tempo, hanno spiegato Aurora Scotti e Pierluigi Pernigotti, rispettivamente presidente dell'Associazione Pellizza e direttore tecnico dei musei pelliziani, non si festeggiava il compleanno, ma l'onomastico. Allegra demandato, ha lavorato sui testi interpretati dal laboratorio teatrale Cesare Bonadeo, sotto legida della Casa degli Alfieri di Asti, il maestro Matteo Ravizza sulle musiche. Tra poco ci sarà lo sport, oltre 150 giocatori per gli assoluti discacchi che sono tenuti al Palazzo Moferrato d'Alessandria, ce ne parlerà Fabrizio Mattana. Prima però, non dimenticate, i consigli dello chef di Lorenzo Zannini, pillole di saggezza in cucina, in pratica poi subito dopo, come dicevamo, lo sport, ancora meteo e notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci.